istituzioni culturali pescaresi abbandonate il grido d'allarme arriva dal consigliere comunale del partito democratico giovanni di jacovo che ha fatto un punto generale della situazione a partire dal museo delle genti d'abruzzo senza cda da dicembre problemi anche per quello che riguarda il museo cascella che vedrebbe inagibile il primo piano e con apertura a singhiozzo chiuso il circolo a ternino che sarà riutilizzato come deposito di libri di abruzzesistica scordatevi di rivedere la ternino utilizzato come in passato ora è completamente chiuso verrà riutilizzato per un deposito di libri di abruzzesistica antica che stavano al museo delle genti d'abruzzo dove secondo me potevano stare benissimo e di conseguenza verrà mutilata la possibilità di organizzare eventi mostre e tutto quello abbiamo fatto nel circolo a ternino e poi anche problemi per quello che riguarda il secondo lotto del matta stava lavorando al secondo lotto una zona accanto al matta che poteva riqualificare tutta quella zona con uno spazio un teatro nuovo legato anche agli audiovisivi al cinema eccetera l'azienda ha fallito i soldi del mit sono persi anche questa zona sta morendo in queste condizioni e un altro nodo forse il più importante riguarda anche il teatro d'annunzio come sapete completamente abbandonato inagibile e non si sa niente di quando un giorno potrà mai tornare ad ospitare spettacoli quindi praticamente la lotta di questa amministrazione contro la cultura della città è stata totale e non ci rimane che accontentarci di quelle panchine a in forma di seppia a piazza salotto